Questo no, questo sì, questo no, mille, quaranta, questo qui? Sì, qua, mando, vai, uno, e due, vale, che lo fai? Maria, stelle, stira, stira, tanti arzini, mamma mia, io sono sempre scoppiati, le coppie non ci sono mai, uno senza, uno senza, uno senza, uno senza, aspetta, adesso tutti scoppiati mamma, questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è, questo non c'è, questo c'è il mostro della zina a casa nostra pure quando si lavano, si lavano tutti quindi quante lavatrici si fa al giorno? quattro? cinque? sei? no, in media tre lavatrici al giorno tre lavatrici al giorno e dodici chili, quindi trentasei chili al giorno sei per sette, sei no, 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 non lo so allora, trentasei, trentasei? mille chili la settimana no, duecento, duecento, cinquantasei duecento cinquantasei, duecento cinquantasei, vede mamma mia, fai tre trentasei diviso, quanti siamo a casa? dieci, dove? undici undici, fai tre trentasei diviso undici e quanti vieni? te chiedi sei di roba per uno? per uno ma che vestiti pesanti ci sono? una tonnellata di panni al mese? e all'anno? dai sei dodici tonnellate sei un trenta per questa te che ci devo un po' darvi quella giacca lì, di chi è? mia? come mai l'avamo metti dentro l'armadio? oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio va, Maria mamma oh mio dio Maria, ma come fai? vai, lo sapevi, chiediamo, basta stai chiedendo ma anche questo è uguale? non lo so, questo non è mio questo no va a vedere un po' no, un po' ira meglio? oh mio dio ma voglio dire quando poi uno va a mettersi una maglia e la trova tutta grinciosa come fa a mettersela? ma addosso guarda mamma, io stiamo mercoledì eh, ma guarda e lo so, mamma allora cosa dovresti fare? domani? stira i sogni sono desideri di felicità nel sonno non hai pensieri a metter sonno non hai pensieri fa a mettersi come a mettersi come ma a mettersi come a mettersi come mi ha toccado ma